buongiorno da obiettivo news oggi 27 ottobre sante avaristo il 27 ottobre di ogni anno si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del patrimonio audiovisivo proclamata dalla conferenza generale dell'unesco con lo scopo di sensibilizzare i governi le imprese private la società civile sul valore del patrimonio documentario audiovisivo la celebrazione è attraverata dall'unesco nel 2005